La sfida che vedeva simpaticamente rivali, giovani di varie nazioni europee. Imponenti scenografie, temi curiosi e i terribili gemelli Olivieri e Pancaldi. Nelle puntate ripescate dagli archivi RSI, molte compagini della Svizzera italiana avevano l'artuo compito di rappresentare il paese. Trent'anni dopo, i protagonisti rievocano quelle avventure. Si comincia con i giovani di Caslano, che giocano sulle rive del Ceresio in uno show visto da 100 milioni di telespettatori. Ricordando giochi senza frontiere, da lunedì alle 10.45 sulla 2.